La mia figlia Ma ora, ma che è? Oh! Lei ti rindo qualche giorno non ci puoi accostare Ma come facciamo? Vieni a vivere con me in sanità Ci troviamo una casa e te Ancosti? Non è già io a casa? Lei, ma tu hai capito che stanno fanno via con te e tuo padre? Ma che ci azzeccano in tutto questo frantello? Vieni, ma ma la situazione è questa, come la fai? E ci risiedi a tutti i miei belli e poi non vanno a casa Ehi, ci ho di chi? Qual è il problema? Quando ti dici che no? E allora te lo vieni e basta Ma tu ti rendi conto che lei come schiacchiere? Vabbè, le dici che... E allora stanno stanno, non è cosa Oh! La testa è buona Ehi, Mr. Bu Hai già luata, non è un problema E allora... E allora... E allora...